Gli iscritti sono stati 81, tutte le persone sono andate a registrarsi con il proprio certificato di nascita, con documento, sono stati 81 e tra questi le personalità più di rilievo, più visibili, sono 27, metto anche come banner così rimane qua, tra ex presidente e parlamentari. Di questi va tenuto presente che il Consiglio dei Guardiani, quello che deciderà, è che l'11 giugno, quindi tra una settimana, ci dirà i candidati che sono questi, saranno al massimo 5 o 6. Diciamo che questa è un'ipotesi, non perché debbano essere 5 o 6, in un'occasione una volta furono anche 8, 9, 10, magari poi saranno pure tanti stavolta, non lo so. Però ecco, ci sarà un setaccio che sarà abbastanza severo, bisogna capire, il tutto è capire stavolta quanto sarà severo. Cioè, resteremo sulla linea di tre anni fa, quindi con una competizione molto, molto limitata, ma allora era chiarissimo che, come dire, i giochi erano fatti, erano già indirizzati perché volevano che Resi vincesse. E qui torniamo a quelli che dicevano che non contava tanto, ma allora se contava niente, perché hanno fatto quasi carte false per farlo vincere. Perché comunque in prospettiva era un possibile successore di Chaminéi come guida, quindi gli serviva anche un rodaggio come presidente. E per tutta una serie di questioni legate al contesto internazionale e interno. Ci sono varie ipotesi, ci sono vari osservatori che invece sostengono che questa volta la competizione sarà più aperta. Sarà più aperta perché c'è bisogno anche di riacquistare un minimo di credibilità interna, un minimo di partecipazione interna. Ed è chiaro che una competizione assolutamente chiusa come quella fu nel 2021 non incoraggerebbe nessuno. Ricordiamo che le ultime due tornate elettorali tra presidenziali e parlamentari sono quelle che hanno fatto registrare il record negativo di affluenza con 40%. Insomma parliamo di questo e con punte decisamente depressive della capitale d'Iran. È uscito un sondaggio, un sondaggio che secondo me è abbastanza credibile, perché poi in queste cose bisogna dire che gli iraniani ci prendono quando li fanno. Sono un'agenzia interna, quindi non ci sono manovre esterne, le società che dagli Stati Uniti telefonano a un po' di numeri in Iran. Questa stima che sta pubblicata ieri o oggi indica che il 53,4% degli aventi diritto parteciperà alle elezioni. Cioè ha risposto sì, andrò a votare. Quindi 53,4%. C'è un 28,9%, quindi quasi il 30%, che è ancora indeciso. Non sa se va o non va. Il 17,7% che ha detto no, non andrà a votare. Comunque non andrà a votare. Quindi è chiaro che sono, come vedete, già un fatto che un 30% di indecisi, è chiaro che un 30% che anche aspettava, aspetta di capire quali saranno poi i candidati. Perché appunto noi abbiamo questa rosa molto ampia, adesso scusate, di 81 nomi. Poi da questi prendete il Consiglio dei Guardiani, i quali ammetterà. E' probabile che una disputa, una competizione più aperta, invogli qualcuno ad andare a votare. Che invece magari è rimasta a casa tre anni fa, o sarebbe rimasta a casa. Allora, 81 nomi sono tanti, per cui non ci mettiamo certo adesso a ripercorrerli tutti. Però facciamo forse prima dire quelli che non si sono iscritti in questa selezione, in questa competizione. E quindi le sorprese di cui parlava Davud l'altra sera, che secondo lui sarebbero state le sorprese, non riguardano i tre nomi che io gli avevo suggerito due settimane fa. Cioè uno tra Rouhani, presidente per due mandati la scorsa volta, Khatami, storico presidente riformista, o Zarif, ministro degli esteri del governo Rouhani, quello dell'accordo famoso sul nucleare, nessuno dei tre si è registrato, è andato a registrarsi. Quindi nessuno dei tre è sicuro di questi, nessuno dei tre sarà in corsa. Forse non è nemmeno, come dire, non è nemmeno questa una sorpresa, nel senso che Zarif forse era più una fantasia di molti osservatori occidentali. Rouhani veniva già da una delusione, dal fatto di non essere stato ammesso nelle elezioni per l'Assemblea degli esperti, cioè quelle che sono tenute nel primo marzo. Khatami non fa politica attiva oramai da una vita, cioè è uscito, è finito il mandato nel 2005, sono quasi vent'anni che oramai non si candida più da nessuna parte. Però ci sono altri nomi, e in questi nomi, in questa rosa, ce ne sono alcuni anche che, come dire, hanno fatto lo sprint finale. Il nome che a me ha sorpreso, che mi ha sorpreso molto, si è registrato oggi, è Galibaf. Galibaf, personaggio di cui abbiamo parlato tante volte, nominato, citato, è l'attuale presidente del Parlamento, cioè è stato rieletto una settimana fa, presidente del Maggelessa, era presidente uscente, è stato rieletto. Sinceramente io pensavo che non si sarebbe nemmeno registrato, non sarebbe andato a registrarsi via Piazza Fatemini all'amministratore degli interni per questa corsa, perché, dicevo, è stato appena detto, che fa, si ricandida per un'altra cosa, anche che si dovrebbe dimettere nel caso. Non so come leggerlo questa candidatura. Se è come una candidatura di parte, nel senso che poi entrerà per procedere il posto a qualche altro concorrente, oppure cerca di sparigliare le carte, oppure il fatto che si sia iscritto in extremis, nelle ultime ore in cui era possibile farlo, sia stata una scelta, forse per chi ha capito che questa potrebbe essere una volta buona, che questa potrebbe essere una competizione che sarà più aperta e che quindi si potrà giocare le carte, Calibuff si è candidato diverse volte, almeno due, una nel 2005, la famosa elezione, l'unica che si è risolta in un ballottaggio, in cui venne eletto la prima volta Madin e Giad. Si ricandidò nel 2017 e poi si ritirò in fori di Raisi a pochi giorni dal voto. Elezioni che Raisi perse quella volta, perché venne eletto Rouhani, venne riconfermato Raisi. Un personaggio discusso, che ha dichiarato, con diverse accuse di corruzione, sindaco di Teran, se non sbaglio per otto anni, o forse anche di più, un conservatore però pragmatico, diciamo decisamente in linea con la modernizzazione del paese, vedremo. L'altro nome, questo che diceva anche Davud l'altro giorno, i due nomi forti sulla carta, sono una parte gialli lì, che esprimerebbe una linea più conservatrice, più dura, più intransigente e di assoluta chiusura nei confronti di possibili confronti diplomatici con l'Occidente. Gialli è stato negoziatore sul nucleare per l'epoca di Ahmadinejad, candidato anche lui nel 2013 contro Rouhani, perse con un distacco non indifferente, era il candidato appunto dei conservatori, e stavolta si ripresenta. L'altro candidato è Larry Gianni, Larry Gianni che è stato a sua volta anche lui ministro, anche lui negoziatore con Ahmadinejad, prima molto vicino ad Ahmadinejad, poi suo avversario, accanito, grandissima, grandissima rottura, con lui, poi presidenza del Parlamento, grande sostenitore della politica di Rouhani, di dialogo con l'Occidente, lui in quanto presidente del Parlamento ebbe anche un ruolo importante nel sapere il calendario dei lavori riguardo appunto a quel trattato, oggi diciamo che potrebbe essere un candidato, di certo non uno che viene da una storia di riformismo, ma non sgradito, come dire, ai moderati e conservatori. Lui tre anni fa venne escluso dalla corsa, anche con un certo clamore e sembra che questa volta abbia vincolato questa sua candidatura a una certezza, a una sicurezza di essere ammesso per non fare un'altra volta come dire, a sbattere contro un muro. Ad oggi, questo lo dicevamo con Davud, è il nome più forte tra quelli sulla carta, sono quelli scritti. Altro personaggio di cui si è parlato, di cui si parlava molto, era questo di cui chiede informazioni Andrea, hai qualche notizia su che posizione abbia Matti Giacardo su queste elezioni? Allora, Matti Giacardo va detto questo, che si è presentato, ancora una volta lui dopo che è stato, tutte le volte che ha potuto provarci a ricandidarsi si è ripresentato, non è stato mai ammesso. intanto va detto questo, che lui l'ha fatto anche se è stato scoraggiato, avrebbero voluto che non venisse, che non si presentasse nemmeno, perché? Perché in qualche modo così costringe il Consiglio dei Guardiani a squalificarlo un'altra volta, a non ammetterlo. In un certo senso è anche questo una critica che lui fa al sistema, da un certo punto di vista anche come dire con una certa dose di coraggio e una certa dose anche di coerenza, di dire, ma perché deve essere il Consiglio dei Guardiani a dire se mi posso candidare o no? Cioè come? Se mi candido, chi vuole mi voterà e chi non vuole non mi voterà. Lui è stato accompagnato all'ufficio delle iscrizioni per registrarsi da un corteo di sostenitori in macchina, a piedi, con le bandiere iraniane. Cioè lui è una dimostrazione che una sua base popolare, una sua base di sostenitori ce l'ha, ce l'ha nel paese. Avrebbe anche interessante vedere andando al voto quanti voti prenderebbe. La sua posizione, sto tornando alla domanda che fa Andrea, è una posizione in cui non ha parlato per niente di politica internazionale, parla soltanto di economia, di stipendi, di pensioni, ritorna con la sua retorica che è sempre stata quella di favorire le classi meno abbienti, eccetera, eccetera. E l'ha fatto, come dire, anche con grande foca, con grande vivacità. Sarà ammesso? Quasi sicuramente no. Proprio perché lui in queste sue posizioni si è chiaramente schierato contro le basi del sistema, dicendo che lui è di fatto contrario al bedagliate, alla teoria, al sistema che governa oggi il paese, che quindi lui vedrebbe superato anche questo sistema. L'ha detto qualche volta in modo più esplicito, qualche volta in modo più implicito, però, insomma, comunque la sua posizione c'è l'altra. Vedremo, vedremo se sarà messo o no. Io credo di no. Poi, ci sono altri personaggi, uno di questi ne avevamo parlato l'altra volta con Daoud è Mati, che è questo, io per scherzare l'avevo definito tre anni fa, il Draghi iraniano, per me non è un conflimento, ma è un personaggio, un economista, presidente già della banca centrale iraniana, anche lui molto, molto focalizzato sull'aspetto economico, ha preso due milioni e mezzo di voti, non credo che però questa volta un altro giro in questo modo ne prenderebbe, soprattutto rispetto a un candidato come Larry Janik, comunque, se alla fine qualcuno dovesse andare a votare per cercare di invertire un po' la rotta negli ultimissimi anni, non credo che potrebbe Mati. Ci sono state tre donne, a meno che io sappia tre donne, ufficialmente tre ex politiche che si sono registrate, l'ultima è stata oggi, si è iscritta nelle ultimissime ore del in cui era possibile, ed era un ex parlamentare, anche oggi si è registrato il vice presidente del Parlamento, Nick Sade, poi il ministro del lavoro e del welfare, Mortazavi, e insomma ci sono altri nomi più o meno importanti che si sono registrati. vedremo appunto se quanti di questi nomi saranno ammessi, vedremo anche se una o tutte e tre di queste tre donne saranno ammesse, sarebbe anche questa una novità. Io ho anche smesso di essere troppo fiducioso nella capacità di rinnovamento di questo sistema, figuriamoci, non ho fiducia nel Parlamento europeo, figuriamoci se ho fiducia nel Consiglio dei Guardiani iraniano. Certo, certo, che se avessero un po' di lucidità anche in chiave di immagine, anche in chiave internazionale, un candidato donna in questo contesto ci starebbe tutto.